Sono contento di essere qui oggi in uno spazio, perché è stato molto importante anche la giornata come oggi, dove sono in vivo dopo tutti gli appuntamenti di tutta la stagione, quindi con questo periodo di tranquillità per me è stato anche molto bello essere qui e si può dire anche a pieno, perché mi ritornano un po' in mente anche i vecchi successi del gruppo. Quindi i miei professori sono molto belle per ricordare il Mondiale di Firenze.